L'anno del dragone 10 febbraio 2024 dopo 12 anni torna l'anno del dragone per la cultura cinese per la sua astrologia questo segno è il più atteso l'anno del drago è considerato un periodo ricco di opportunità per tutti nel calendario lunare cinese il dragone è infatti simbolo di potenza magia e magnetismo è un animale favoloso dalle fattezze uniche ma complesse lungo come un serpente con la testa di cane gatto o lupo ha inoltre le zampe come quelle di un'aquila e con una grande bocca con tante lingue che demettono fuoco nei tarocchi la carta simbolo è l'imperatore carta che racchiude il potere il magnetismo e tanto fascino ma chi di voi è nato sotto il segno del dragone quelli nati nel 1940 1952 1964 1976 o il 1988 2000 o 2012 e come quest'anno 2024 auguri a tutti coloro che sono nati nell'anno del dragone cinese da cartomanti europei